Nonostante il lockdown imposto dalla pandemia, il Museo Egizio di Torino si prende una rivincita sul Covid-19, confermandosi fra le mete più apprezzate dai visitatori anche in questa fase di ripresa. Sono state infatti oltre 50.000 le presenze dalla riapertura dalla fine dello scorso aprile, un dato che in condizioni come queste è assolutamente positivo. A dirlo è stata la presidente del Museo Egizio, Evelina Cristilin, in occasione della presentazione alla stampa della nuova sala permanente dedicata alla vita nell'antico Egitto attraverso lo studio dei resti umani che amplia il percorso di visita. I numeri confortano chi lavora nel più antico museo egizio al mondo fondato nel 1824 e secondo per importanza solo a quello del Cairo. Il bilancio 2020 chiude infatti in pareggio nonostante il fatto che l'emergenza sanitaria abbia portato ad una riduzione dei ricavi del 72% e delle presenze pari al 70. Dedicato esclusivamente all'arte e alla cultura dell'Egitto antico, la sua collezione è stato oggetto di interesse da parte dei più grandi studiosi del passato come Jean-François Champollion. Per questo e per l'importanza delle collezioni presenti del museo Torino è considerata la città dove è nata l'Egittologia. A costruire il fulcro del nuovo spazio articolato su due piani e intitolato alla ricerca della vita è una teca allestita per contenere 91 mummie che fanno parte della collezione del museo. Grazie a una speciale pellicola sei di queste mummie sono svelate al pubblico a rappresentare le tappe fondamentali della vita. La speciale teca assolve alla doppia funzione di vetrine e deposito ed è stata quindi progettata per garantire i massimi standard conservativi per resti umani e organici estremamente fragili. Realizzata con l'importante sostegno della consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino, la sala alla ricerca della vita esplora e approfondisce quindi il tema dell'esistenza nell'antico Egitto, il rapporto della cultura nilotica con la mummificazione e il concetto di al di là, partendo dallo studio dei resti umani e dei corredi che in alcuni casi li accompagnano.